Il Parco Pertini Per tutta la giornata infine sono stati attivi diversi focus su pallavolo, calcio, scherma ed equitazione con la presenza di operatori preparati per favorire il processo di integrazione della disabilità fisica e cognitiva in ambito sportivo. Vi voglio offrire anche un'occasione di visibilità di quegli sport che normalmente vengono fatti in ambienti chiusi, quindi dare l'occasione come in questa occasione, ripeto, un parco si presta a rendere visibile questo. Ma quello che mi preme sottolineare è il fatto di questo nacque come gioco inizialmente, siamo alla decima edizione e si è visto che io non faccio più una telefonata perché le società partecipino, il che dimostra che c'è già una presa di coscienza di come da una parte si renda visibile il mondo associativo e dall'altro ci sia anche uno scopo di solidarietà. E questo è un aspetto, cioè quello di dare un'occasione di promozione sportiva in senso generalizzato. L'altro aspetto è quello dell'integrazione, cioè dire ora ad esempio sta finendo un calcio solidale, si chiamano, in cui ci sono ragazzi portatori di cap e di varie associazioni anche della provincia che fanno un torneo, quindi è un modo in cui si rende un'occasione anche a quello che sono meno fortunati di noi.